Ciao! Se stai cercando una villaschiera e magari sei indeciso tra avere la mansarda o avere la taverna, potrei avere quello che fa il caso tuo. Questa qua ce li ha tutte e due, una bella mansarda, una bella taverna, un po' di giardinetto. Vieni a vederla! 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 Vieni a vederla!